Nei primi sei mesi del 2022 l'83,5% delle 328 aziende oggetto di accertamento della vigilanza ispettiva dell'Inps in Puglia è risultato irregolare, 274. Le verifiche hanno fatto emergere evasione ed elusione di contributi e sanzioni per oltre 14 milioni di euro. Sono alcuni dei dati sulla base dei quali la direzione regionale dell'Inps ha deciso di sottoscrivere un accordo con la procura generale di Bari per rendere più diretto e veloce lo scambio di informazioni sulle irregolarità e quindi più efficace la lotta al lavoro nero caporalato, attività di aziende fittizie. Gli accertamenti ispettivi sono stati rivolti infatti anche al contrasto del fenomeno dei falsi rapporti di lavoro costituiti solo formalmente ma per far percepire indebitamente prestazioni a sostegno del reddito. Su questo fronte le verifiche del primo semestre dell'anno hanno portato all'annullamento di 5.391 rapporti di lavoro fittizi di cui 4.673 nel settore agricolo e 718 nei settori industria e terziario. Con l'intesa che ha una durata di tre anni si istituisce un canale informativo diretto tra le procure di Bari, Trani e Foggia e le relative direzioni provinciali Inps ed è prevista la possibilità di realizzare un coordinamento infracircondariale tra procure e Inps anche con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali come l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e altre forze di Polizia.